Grazie a tutti Aspettiamo la diciotto! Aspettiamo la diciotto! E' arrivato! E' arrivato! E poi il numero 18! Il numero 18! Paolo Ligaru! E' arrivato! C'è il massimo Armini! E' il contatto! C'è Stavidio! Rolati! E benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Eden, ridete l'attacco di un nuovo video, live reaction dal Palahigo, oggi non era comito, sono un giorno, a me c'è anche SIS. E sempre consigliere del Palahigo della Serie A famiglia Massimo José Monturi consegna il panell'oro della miglior riciclione della Serie A 1 2017-2018, costituito con la maglia del gol di Pesano e va, JAS NISETI! SIS. E abbiamo una parola a mano per l'azione, sempre consigliere di Palahigo della Serie A famiglia Massimo José Monturi consegna alla società Vigo e Mertonannotara la carca della vittoria della Supercoppa 2017-2018 e ritira il Presidente Suor Giovanna Saboritti. 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 e lo spettacolo del Valerico ma i quadri di 37 sono per il film Vieni con quel cuore, seguiamo le linee E come sempre partiremo con noi in via a destra Set point per Novama Azzurro 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 Grazie a tutti.